A tutti voi buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura il bollettino con i dati relativi ai contagi delle ultime 24 ore. C'è stata una nuova impennata nel numero dei nuovi positivi, li potete vedere. Andiamo a leggerli insieme, sono 845 nelle ultime 24 ore. Si registrano poi purtroppo quattro decessi, una donna di 95 anni di Muggia, deceduta in casa di riposo, una donna di 92 anni di Trieste, anche lei deceduta in casa di riposo, un uomo di 87 anni di San Dorligo della Valle, un uomo di 74 di San Giorgio di Nogaro, deceduto in ospedale. Salgono, come potete vedere, le persone ricoverate in terapia intensiva, che oggi sono 28, e salgono anche i pazienti ricoverati in altri reparti di ben 17 unità rispetto a ieri. In tutto in questo momento sono 249 i malati di Covid ricoverati in regione nei reparti ordinari. Ci sono 6.329 persone in isolamento, ci sono nuovi casi tra il personale sanitario, sono una trentina oggi tra le varie aziende sanitarie e ci sono anche 23 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione Trieste, Muggia, Grado, Azzano Decimo e San Daniele del Friuli ed è stata rincontrata la positività di 10 operatori all'interno delle stesse strutture. Quindi numeri ancora in risalita, tanto che il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha deciso di anticipare quanto deciso ieri dal governo. Il governo, lo sapete, ha decretato che dal 6 dicembre si partirà in tutta Italia con il Super Green Pass. Fedriga invece ha deciso di anticipare al 29 di novembre, quindi a lunedì, i divieti per i no-vax che appunto a livello nazionale scatteranno invece la settimana dopo. Questo per evitare discrepanze tra la situazione locale e quella del paese. In zona gialla quindi i vaccinati e i guariti non avranno limiti, tranne quello della mascherina all'aperto. I cittadini non immunizzati invece da lunedì potranno recarsi solo al lavoro e sui mezzi pubblici grazie al tampone negativo. Per bar, ristoranti, teatri, piscine, palestre e altri luoghi dello svago l'accesso sarà possibile solo con il vaccino o la guarigione. Numeri che appunto continuano ad essere in salita. L'occupazione dei reparti ospedalieri è oltre le soglie di guardia. Il 14%, il 18% per le medicine è salita. L'incidenza è arrivata a 288 casi per 100.000 abitanti. In crescita i focolai attivi che passano da 1.110 a 1.528 e aumentano anche i casi per i quali il tracciamento è saltato. Questa dunque è la situazione e le relative decisioni. con gli esercenti che dovranno essere alle prese a breve tra pochi giorni con questo nuovo strumento che è il Super Green Pass. E allora andiamo a sentire che cosa ne pensano. Tutti i nostri clienti sono sempre più che disponibili. Insomma, diamo tante volte per scontato che chi entra dentro ce l'abbia. Non è sempre così. Quindi anche nei momenti magari di picco, tipo il venerdì pomeriggio o il sabato quando la gente entra e si sieda, io e i miei collaboratori subito andiamo con l'app Covid-19 a verificare insomma che il Green Pass ci sia quindi no, ad oggi nessun problema. Indicativamente comunque hanno tutti il Green Pass più o meno? Diciamo che al 99% abbiamo sempre trovato gente col Green Pass sicuramente e ovvio che qualche magari defezione c'è stata. C'è quello che dice, ah l'ho dimenticato in macchina e poi magari non ti torna o quello che dice, sì sì eccolo qua e poi ad occhio vedi che insomma la data di nascita è un pochino fuorviante quindi dici, ok, siamo sicuri che sei proprio il suo e quindi mai ti dicono, no, forse ho sbagliato a darle quello di mio figlio, adesso vediamo. Però insomma ad oggi va tutto bene, mettiamola così dai. Però qualche caso insomma c'è stato, di qualcuno che ha provato a fare il furbo. Sì, diciamo che qualche furbetto c'è stato e ci sarà sempre, la mettiamo così però ad oggi sono veramente casi sporadici. Dal 6 dicembre potrà venire da voi solamente chi è vaccinato quindi non chi ha il Green Pass da tampone. Come hanno preso i clienti e come avete preso voi anche la notizia? Beh, allora, partendo dal presupposto che sia io che tutti i miei collaboratori sono tutti vaccinati. Abbiamo detto anche che dal 1 dicembre gli over 18 potranno fare la terza dose quindi ci metteremo già in lista noi. I clienti ad oggi, tutti i clienti che si siedono dentro ovviamente sono favorevoli perché vuol dire che si sono già schierati dalla parte di chi vuole fare il vaccino e credere nella scienza ad oggi. Vedremo queste nuove disposizioni se porteranno un calo, un aumento del fatturato insomma, ci aspettiamo un bel Natale speriamo di fare il Natale quest'anno visto che l'anno scorso non è stato un vero Natale e incrociamo le dita che tutto possa andare bene. A proposito di vaccini l'Agenzia Europea per i medicinali, l'EMA, ha raccomandato di concedere un'estensione dell'indicazione per il vaccino Covid di Pfizer per includere l'uso dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Si legge in una nota dell'EMA che il vaccino è già approvato per l'uso in adulti e bambini di età superiore ai 12 anni. La Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco è stata convocata la prossima settimana dall'1 al 3 dicembre con all'ordine del giorno anche la valutazione della pronuncia dell'EMA sulla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica 5-11 anni. Andiamo ora a dare un'occhiata alla mappa elaborata dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Aggiornamento di oggi, notiamo subito che la situazione dell'Italia è decisamente peggiorata. Non ci sono più regioni in verde e c'è solo l'arancio, il rosso e il rosso scuro. Anche la Sardegna, che era rimasto l'ultimo baluardo verde fino alla settimana scorsa, ora è passata in arancione. Di tutte le regioni italiane, ovviamente, quelle messe peggio sono Bolzano e il Friuli Venezia Giulia, che lo vedete, sono colorate di rosso scuro. Il Friuli fa anche segnare il dato peggiore per quanto riguarda le terapie intensive. Se si guarda poi il resto d'Europa, vedete che la situazione non è certo migliore, anzi l'Italia è quasi l'unica ad avere ancora delle zone non grosse, mentre il resto del continente è praticamente tutto rosso. I paesi dell'est e la Germania vedono aumentare sempre di più il numero di contagi e si colorano di rosso scuro. Torniamo in Italia e andiamo a vedere come si stanno preparando le città all'arrivo di questo ennesimo Natale diverso. Mascherine all'aperto, transennamenti e piazze numero chiuso. Le città italiane si preparano a un altro Natale in epoca Covid e varano misure per contenere la folla dei giorni di festa, che potrebbe innescare contagi e focolai. Sotto la lente, in particolare, i centri storici e le principali vie dello shopping, prese d'assalto a dicembre per gli acquisti natalizi. Massima attenzione anche ai tradizionali mercatini, ai luoghi simbolo e alle attrazioni abitualmente visitate ai returisti. Per la capitale, le misure sono ancora allo studio, se ne discuterà nelle prossime riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Tra le ipotesi sul tavolo potrebbero esserci transennamenti nelle principali vie dello shopping del centro storico e accessi contingentati nelle piazze più frequentate, come già avvenuto l'anno scorso. Il prefetto di Milano, invece, ha inviato una lettera al sindaco Giuseppe Sala e a tutti i primi cittadini dell'Interland per invitarle a prevedere, con eventuali ordinanze, l'uso della mascherina anche in luoghi all'aperto, dove ci sono particolari affollamenti come i mercatini di Natale. La lettera è stata inviata al termine del Comitato per l'Ordine Pubblico con l'obiettivo di far restare la Lombardia in zona bianca nonostante l'aumento dei contagi. In altre città i primi provvedimenti sono stati già decisi. Facciamoci ora un giro nel resto d'Europa. Quella che poco fa abbiamo visto colorata praticamente tutta di rosso con la situazione in Germania che si fa sempre più difficile. Stessa cosa succede in Austria, superata la soglia di 600 pazienti in terapia intensiva peggiora. Anche la Francia, dove si stanno ammalando di Covid. Tanti bambini. L'Europa è di nuovo costretta a mobilitare tutto il suo arsenale per evitare un inverno devastante a causa della pandemia. E così si riaffacciano le restrizioni anche dracognane che si sperava fossero state archiviate. La Francia si prepara ad un ulteriore giro di vite per salvare le feste di Natale, spaventata da una crescita mai vista di contagi tra i bambini. La Slovacchia, dopo l'Austria, ritorna in lockdown. In Germania anche Angela Merkel avrebbe voluto chiudere tutti in casa, ma i leader della prossima coalizione di governo hanno respinto la richiesta, nonostante numeri da bollettino di guerra. Il vecchio continente è malato sempre più gravemente con oltre 2,5 milioni di contagi, quasi 30.000 decessi nell'ultima settimana e una tendenza in aumento. Soprattutto perché, ha rilevato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 45-47% della popolazione europea non è vaccinata, così come la maggior parte delle persone in terapia intensiva. Anche il Centro Europeo per le Malattie, le CDC, ha insistito sui vaccini, ma ha chiesto ai governi uno sforzo ulteriore, anche se impopolare, adottare misure non farmaceutiche, ossia rigide restrizioni ai contatti sociali. In Germania, dove gli esperti stimano che l'incidenza del Covid sia fuori controllo, la cancelliera Angela Merkel si è convinta della necessità di una linea durissima. Cambiamo argomento alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. la Commissione regionale Pari Opportunità ha voluto coinvolgere e mandare dei messaggi, in particolare al mondo della scuola. E lo ha fatto coinvolgendo 11 campioni che hanno inviato un video con le loro riflessioni. Andiamo a sentire. Dusi Marcolin, Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, ha presentato un video degli sportivi con i loro messaggi che finiranno nelle scuole. Quanto potrà aiutare a costruire una cultura del rispetto? Beh, io credo e sono convinta, come tutta la Commissione, che questo servirà moltissimo perché un modo per raggiungere i ragazzi era proprio quello di farlo fare attraverso i loro beniamini. Abbiamo cercato di prendere il meglio da ogni pratica sportiva. Rimaniamo aperti a eventuali nuovi contributi che vorranno arrivare proprio per arrivare il più possibile dappertutto, partendo dai ragazzi delle scuole. È incontrovertibile il fatto che oltre che la formazione e la comunicazione, in questo caso testimonial sportivi, verso cui i ragazzi e i giovani si identificano per interiorizzare un messaggio di rispetto, che è quello contro la violenza, qualsiasi violenza, ma specialmente contro le donne, deve andare di pari passo anche con un sistema di deterrenza importante. Molte volte anche il sistema, i giudizi, i tribunali, che in qualche modo giudicano chi compie violenza, in questo paese stranamente fa passare forse molto volte la donna, come quella che magari ha contribuito oppure con l'atteggiamento, ha favorito. Cioè c'è in qualche modo un approccio che rischia di non essere invece fermo, come deve essere quello della deterrenza contro la violenza. Questa giornata 65 comuni del territorio regionale stanno celebrando questa giornata, che non è mera celebrazione, perché al di là delle iniziative legislative sulle quali possiamo intervenire, è necessario un dato fondamentale, la certezza della pena per questi reati. Passiamo ai lavori del Consiglio regionale con la legge di stabilità 2022 al vaglio. oggi della prima commissione in bilancio che parte da un quadro preliminare di circa 4 miliardi e mezzo di euro. Sentiamo l'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli. È una finanziaria molto robusta, conta su 265 milioni di euro in più rispetto alla finanziaria approvata l'anno scorso. Questo è il frutto sia della felice trattativa con lo Stato sui patti finanziari da parte del Presidente Fedriga, ma anche della tenuta delle entrate. Noi abbiamo ragionato in questo momento allocando di queste risorse in più ben 157 milioni destinati all'importante ruolo che ha la persona per noi nella comunità regionale. Quindi attenzione al sistema casa, alla legge sulla famiglia che ha una dotazione importante di 25 milioni di euro per il suo avvio, all'edilizia scolastica per i nostri bambini e ragazzi ed anche al finanziamento della spesa corrente per gli enti locali. Queste sono alcune delle poste in cui si affiancano risorse importanti per gli investimenti che vanno ad irrobustire tutte quelle linee contributive di finanziamento che dall'inizio della legislatura abbiamo attivato. Per cui riguarda i 100 milioni che devono essere ancora allocati, qual è l'indirizzo dell'amministrazione regionale? In questo momento l'atteggiamento è di prudenza perché siamo in attesa delle determinazioni statali sulle revisioni delle imposte quali IRPEF e IRAP, che regioni come la nostra che hanno la competenza in materia di gettito richiedono appunto avvengano a neutralità finanziaria. D'altro canto la recrudescenza della pandemia ci impone un atteggiamento molto serio e severo nell'allocazione delle risorse perché siamo convinti che le necessità saranno di nuovo molteplici e quindi ci stiamo interrogando e lavorando come giunta regionale con gli uffici sulle scelte da adottarsi. In ogni caso da qui all'aula sceglieremo di irrobustire la manovra secondo la valutazione di queste problematiche e le soluzioni che verranno prospettate ovvero mediante altre iniziative anche di natura consigliare. Andiamo a sentire ora l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimaro nel corso della presentazione della fase operativa del progetto Recap recuperiamo insieme le capsule di plastica portato avanti dalla regione in stretta collaborazione con due grandi player del settore caffè come Illi Caffè e Nestlé. Presentata la fase operativa del progetto Recap recuperiamo insieme le capsule di plastica portato avanti dalla regione Friuli Venezia Giulia in stretta collaborazione con due grandi player del settore del caffè come Illi Caffè e Nestlé e con i gestori dei rifiuti urbani Acegas APS AMGA NET e AET 2000. Questa nuova fase di Recap ha preso il via oggi e durerà tre mesi coinvolgendo i comuni di Trieste, Udine, Campo Formido e Pasian di Prato con modalità diverse di conferimento delle capsule esauste che saranno raccolte in un sacchetto appositamente confezionato messo a disposizione dei cittadini. A Udine saranno utilizzati gli sportelli della NET in via Duodo e in via Gonars mentre le capsule andranno consegnate al centro di raccolta di via Stiria. Nei comuni di Pasian di Prato e Campo Formido la raccolta avverrà con il sistema del porta a porta attraverso il gestore AET 2000. Gli utenti dei comuni interessati riceveranno una newsletter via email con la quale sarà richiesto di partecipare alla raccolta compilando un modulo di adesione. Entusiasta dell'iniziativa l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocci Marro. Passiamo dalla poesia alla prosa e andiamo nello specifico a mettere insieme due grandi colossi del caffè con tre società regionali di raccolta e riciclaggio dei rifiuti per andare nel senso di questo progetto RECAP che andremo a utilizzare le cialde di plastica del caffè. È una cosa innovativa, siamo i primi certamente in Europa e va nel senso di quella che è il riciclo dell'economia circolare. Quindi andiamo nel dettaglio, nei fatti, a poter riciclare questi materiali. Prima di salutarci, gli appuntamenti delle prossime ore su Udinese TV. Innanzitutto quelli con l'informazione che torna alle 19.00 live nell'edizione della sera, alle 19.30 pillole di fair play, alle 20.30 all'edizione Veneto, alle 22.30 all'edizione della notte. La prima serata, come ogni giovedì, è dedicata all'agenda di Alberto Terasso, questa sera alle ore 21.00. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.